L'erocambolesca avventura di lollo Marcello mi ha fatto male ma per mille di Menschenre Siav trivia non sono intempi Fashion Lollo sembra uno schimpanzere che non sarà capace di andare uno schimpanzere senza gambe a cui hanno impiantato un clickedino al posto del cingolo pelvico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.